Io capisco che la politica ha i suoi linguaggi, ma in un mondo in cui si chiede di fare alcune cose, una delle cose che mi sembrano più incomprensibili è che cosa stia facendo in questo momento Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio, ex Segretario del PD. Tutti quanti i giornali dicono che il rottamatore vuol fare dei gruppi parlamentari autonomi rispetto a quelli del PD, si tratterebbe di una trentina di parlamentari sui 190 mi sembra del PD. Allora io mi chiedo per quale motivo l'uomo, cioè Renzi, che con il suo cambio di rotta ha fatto nascere il governo Conte, perché aveva detto Renzi mai con il Movimento 5 Stelle, poi ha detto facciamo un'alleanza con il Movimento 5 Stelle pur di far fuori Salvini, ecco il signore che ha cambiato la linea del Partito Democratico adesso decide di uscire dal Partito Democratico. Mi sembra di aver capito dalle dichiarazioni di alcuni di loro, dei renziani, che loro non possono stare nel partito con Bersani e con la sinistra che era ex comunista. Ma allora io mi chiedo al moderato Renzi, ma caro moderato Renzi, tu hai reso più moderato il PD quando hai fatto il segretario, poi hai perso il PD, poi hai detto mai col Movimento 5 Stelle, poi hai fatto fare l'alleanza col Movimento 5 Stelle e dopo un mesetto che hanno fatto al PD l'alleanza col Movimento 5 Stelle e te ne vai dal PD. Peraltro vuoi continuare ad appoggiare un governo che ha non solo il Movimento 5 Stelle al suo interno, ma con speranza Ministro della Sanità anche la sinistra che tu non ami. Allora è difficile per ritornare all'inizio del nostro discorso raccontare ai nostri genitori, ai nostri figli, ai nostri cugini, alle nostre fidanzate, alle nostre mogli che cavolo sta facendo il rottamatore? Il rischio è che il rottamatore Renzi sia diventando come Franceschini, cioè un grande uomo politico buono per tutte le stagioni. È così che finisce la rottamazione?